Buonasera Luisella, io vorrei far notare che dopo Totti e Ilari, dopo Meloni e Gianbruno, adesso Fedez e Ferragni, cara Luisella siamo rimasti soltanto io e te, siamo rimasti solo io e te. Io suggerisco, ma litighiamo anche noi, cacciami dallo studio. Ma noi sai perché andiamo d'accordo? Sentiamo, io ho una mia teoria. Perché non abbiamo niente in comune. Quello, ma certo, il segreto, ma in realtà il segreto dell'unione fra me e Luisella Costamagna è ovviamente la stima, la passione, il rispetto reciproco, ma soprattutto la falsità e l'ipocrisia. Quello che ci lega a me e a Luisella siamo falsi e ipocriti e cortesi come noi più cortesi. Ma poi diciamoci la verità, quello che ci lega è i soldi, sono i soldi, abbiamo firmato un contratto, l'uomo non osi separare ciò che la RAIO ha unito, anche perché se no, se ci separassimo ci toccherebbe litigare per l'affidamento del pubblico e litigheremmo perché io non li voglio, te li prendi te. Io questi qui io non li voglio a casa, non ci opposto. Ma non ci vorrebbero stare. Comunque, Luisella, adesso scherzi a parte, io con te sempre unito nella buona e nella cattiva sorte, nella seconda e nella terza serata, però mi raccomando stasera sbrigati che c'ho sonno. Quindi io mi metto lì sul divano, comincio a sonnecchiare, tu guida, guida, conduci piano. Guido con prudenza. Guido con prudenza, conduci piano e non alzare troppo la voce. Va bene, dopo ti aspetto con di Pietro e Natascia Stefanengo. Allora noi facciamo.